Guarda, io ben avuto ho parlato a esserie vote, considera, ma voglio dire solo una cosa, perché oggi è successo un fatto spiacevole rispetto all'intrusione, come è stato detto a gamba tesa, di un ministro della Repubblica in quello che è il processo legislativo dell'Assemblea regionale del Lazio e ho trovato assolutamente sconveniente, e dal punto di vista istituzionale lo considero un errore gravissimo, che una parte di questa Assemblea, invece che far notare al ministro che l'Assemblea è sovrana, eletta dal popolo, sì, discuto di Galanna, eletta dal popolo e da un potere legislativo, gli ha dato ragione. Quindi questa Assemblea oggi si è messa al servizio del governo Berlusconi e lo avete fatto voi, non noi, lo avete fatto voi, avete detto che un ministro della Repubblica può interferire in un'Assemblea legislativa, questo è quello che ha fatto l'opposizione, siete berlusconiani. Per cortesia, per cortesia. No, zizzi, zizzi, zizzi. Accendetegli il microfono. Microfono. Per cortesia. 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 Consiglieri, prendete posto per cortesia. Ma accendetegli il microfono, vabbè, va accendere il microfono, entra, guarda il microfono. Grazie. Ma ha chiuso il telefono. Ha chiuso il telefono. Ma ci fate sentire? Per parlare in C-Strasmas? Sì. Quando hai acceso il microfono, sì. No, che senti? Sì. Sì. Sì.